Gli audio racconti, serie Solar Pons, i sette corrieri di August Derlet, letto da Adami. Basta menzionare un certo nome, in presenza del mio amico Solar Pons, perché nei suoi occhi si accenda un lampo di sfida, e le sue labbra si serrino in una smorfia severa. È un nome che risveglia in lui il ricordo di alcuni casi tra i più interessanti della sua carriera di investigatore, dedicata alle indagini su quelle attività criminali che nelle loro singolari manifestazioni rivelano le storture nascoste nel mondo della mente umana. Pons ebbe varie volte occasione di cimentarsi con le macchinazioni del barone Ennes Fred Kroll, che incontrò personalmente per la prima volta in una riunione mondana, a un ballo dell'ambasciata tedesca, sul finire del 1929. Kroll era una figura di distacco nell'ambiente dell'alta società. Spalle gibbose e un aspetto sinistro, ma una personalità dal fascino che calamitava tutti i presenti, mentre egli si aggirava tra la folla che assisteva alla festa dell'ambasciata. Pons considerava Ennes Fred Kroll il prototipo del grande criminale, anzi, del supercriminale. Prima di riuscire a intrappolarlo, si era trovato a dover risolvere vari casi che, a detta del mio amico, portavano l'inconfondibile impronta del barone. Fra tutti, i più avvincenti sono forse i due annotati nei miei appunti, con i seguenti titoli, I Sette Corrieri e Vacanza Perduta. La straordinaria vicenda legata ai Sette Corrieri venne sottoposta all'esame di Pons di prima mattina, nel gennaio del 1930. Egli, più mattiniero di me, mi attendeva per la prima colazione, leggendo sul Times i servizi su una conferenza, in quei giorni in corso a Londra, per la limitazione degli armamenti navali. Novità? domandai sedendomi di rimpetto a lui. Pons si strinse nelle spalle. In città no. Un delitto piuttosto interessante è nel Kent. Un furto molto bene architettato in un villaggio a sud di Londra. Non c'è altro. Ma qui, continuò battendo un dito sul giornale, posato accanto a lui, c'è una possibilità stupenda per qualcosa di veramente interessante. Che cosa? chiesi. La conferenza navale. Mi figuro che razza di confusione potrebbe nascere, tra le delegazioni dei paesi partecipanti, se una spia in gamba rivelasse intempestivamente delle indiscrezioni sui negoziati in corso. Assaggiate le uova e, mormorato l'elogio di prammatica alla signora Johnson, la nostra stimata ed indulgente padrona di casa, il mio amico stava per continuare la sua rifezione, quando improvvisamente squillò il campanello. «Oilà!» esclamò Pons illuminandosi in volto. Con un sorriso di soddisfazione scostò un poco la seggiora dal tavolo e rimase in attesa tendendo l'orecchio. Sulle scale risuonarono i passi decisi della signora Johnson. Dopo aver bussato, fece capolino con la testa scarmigliata, i cernacchi che sfuggivano dalle grosse trecce. «Un signore desidera parlare con voi, signor Pons», disse, e ci lanciò un biglietto da visita, che io afferrai al volo e porsi al mio amico. Mentre un lampo di soddisfazione gli illuminava gli occhi, Ponsi narcò le sopracciglia un po' sorpreso. «Fatelo salire, signora Johnson. Fatelo salire subito!» «Vedo che siete piacevolmente stupito», osservai. «Elementare, amico mio, ma sempre una deduzione. Stiamo per ricevere la visita di un funzionario di Downing Street.» Lasciò cadere sul tavolo il biglietto da visita e continuò. «Non mi sorprenderebbe affatto se la conferenza navale fosse entrata in crisi.» Raccolsi il biglietto da visita. Evan Aldridge St. John, lessi. «Ecco un nome bello e imponente a un tempo», dissi. «E' anche un po' affettato», si potrebbe aggiungere. «Non meravigliatevi, se il nostro visitatore è all'area del Moscardino.» Un colpetto leggero, discreto, alla porta. «Avanti!» disse Ponce. La porta si aprì e un giovanotto entrò nel nostro soggiorno. Piuttosto belloccio, alto poco meno di un metro e ottanta, dai capelli di un biondo scuro, era impeccabilmente vestito da mattina, con guanti e canna da passeggio. La parola Moscardino, che Ponce aveva appena usato, gli si attagliava senz'altro alla perfezione. «Prego, accomodatevi, signor St. John», disse il mio amico. «Il dottor Parker e io stavamo facendo colazione, ma un visitatore che viene da Downing Street è sempre il benvenuto, non importa che ora.» Aderendo all'invito di Ponce, Evans and John prese posto. Si chinò in avanti appoggiandosi al bastone d'Ebano e gettò un'occhiata verso di me, mordendosi le labbra palesemente indeciso. «Vi garantisco che il dottor Parker è la discrezione fatta persona. Sono forse in errore, supponendo che le vostre funzioni abbiano attinenza con la conferenza navale e che qualcosa è andato storto?» St. John sospirò, si coprì gli occhi con una mano e scrollò la testa. «Ci è caduto il tetto addosso, signor Ponce. Siamo in un mare di guai.» Era così convinto di quel che diceva che gli mancava la voce. «Santo cielo!» esclamò Ponce appoggiandosi alla spalliera e incrociando le mani. «Che cosa è successo esattamente?» «Sono spariti dei documenti importanti, signor Ponce. I più importanti, oserei dire, in questa fase della conferenza. Inesplicabilmente. E forse non è esagerato affermare che gli ulteriori sviluppi dei negoziati dipendono da questi documenti.» «Non sono stati smarriti, naturalmente, vero?» chiese Ponce. Il nostro visitatore picchiò con impazienza il bastone contro una scarpa. «Certamente no, signor Ponce. I documenti sono stati rubati.» «Questo è più verosimile. Allora, se non vi dispiace, volete raccontarci esattamente che cosa è accaduto?» St. John annui e subito cominciò col dire. «Eravamo in treno stamattina, tornando da...» Ponce lo interruppe con una smorfia di esasperazione. «Per favore, abbiate la gentilezza di cominciare dal principio, signor St. John.» «Avete detto, noi. Chi oltre a voi?» «Eravate in treno, il che significa che avete passato la notte fuori città. Anche se, presumibilmente, causa la conferenza, non dovreste assentarvi.» St. John arrossì e la sua mano si contrasse sul pomo del bastone. Gesto che il mio amico ignorò completamente. «Suppongo che sappiate, signor Ponce, che Sua Eccellenza il Ministro della Guerra sta trascorrendo un periodo di convalescenza nella sua villa vicina a Windsor. Ponce annui. Lord Stapleton aveva dato, a suo tempo, le necessarie disposizioni per essere tenuto al corrente di tutto quanto accadeva durante le sedute della conferenza. Esigeva rapporti scritti completi e particolareggiati. Siccome i risultati definitivi dei negoziati dipendono in massima parte da Sua Eccellenza, la sua richiesta era stata prontamente esaudita. Conseguentemente erano stati selezionati sette funzionari ed io sono tra questi, incaricati di portargli i rapporti. Ogni sera, dopo la chiusura della seduta, questi sette corrieri salivano in treno alla stazione di Paddington, ciascuno custodendo, nella tasca interna della giacca, un portafogli contenente una parte dei resoconti, in codice, naturalmente. Io, viaggiando da solo in uno scompartimento, mi incaricavo dei documenti più importanti. Gli altri, tre per scompartimento, portavano il resto. Arrivati a Windsor, facevamo il nostro rapporto a Sua Eccellenza e, poiché eravamo invitati a trascorrere la notte nella villa, al mattino, per tornare in città, prendevamo uno dei primi treni. Da sei giorni a questa parte, io non sono più rimasto solo nel mio scompartimento. Ogni volta ho avuto un compagno di viaggio, un signore anziano, che aveva tutta l'aria di un qualsiasi commerciante. Da principio, non ho dato peso alla cosa, finché non ho notato che qualsiasi fosse il treno che la sera prendevamo, lui trovava maniera di viaggiare con noi, infilandosi subito nel mio scompartimento, dopo aver chiesto ogni volta educatamente permesso. Neppure lontanamento ho avuto dei sospetti su di lui. Sembrava un vecchio decrepito, inoffensivo. Purtuttavia, durante questi ultimi giorni, mi sono sentito addosso un certo nervosismo. Durante la sessione di ieri, si è avverato quanto i giornali stavano pronosticando già dalla settimana scorsa. La conferenza è arrivata a un punto morto. In conseguenza di questa crisi, ieri, noi Corrieri portavamo con noi, oltre ai rapporti sull'ultima seduta, un memorandum particolareggiato di tutti i negoziati dal giorno in cui aveva avuto inizio la conferenza. Fino ad ora, la stampa è stata tenuta rigidamente all'oscuro degli argomenti trattati dai congressisti e il governo ritiene opportuno continuare su questa linea, almeno per un anno, limitandosi a distribuire ai giornali dei comunicati occultamente censurati. Allo stato attuale delle cose, se la stampa dovesse impadronirsi dei rapporti che ci sono stati rubati stamani mentre tornavamo in città, la conferenza finirebbe a gambe all'aria. È difficile credere che una tale raccolta di documenti possa essere sparita dalle tasche di ben sette funzionari, disse Pons interessatissimo. Sono stati rubati, signor Pons, disse St. John gesticolando nervosamente. Come siano stati rubati a me, sono in grado di dirvelo, ma in quanto ai miei colleghi, non saprei, concluse stringendosi nelle spalle. E a voi come li hanno rubati? Purtroppo, disse St. John un po' imbarazzato, credo di essermi addormentato. Infatti ricordo che il treno ha lasciato Windsor e poi più niente, fino a quando mi sono svegliato nel bel mezzo del frastuono della stazione di Paddington. Non vi siete accorto che stavate addormentandovi, signor St. John? Assolutamente no, esclamò il nostro visitatore scuotendo la testa. Non potrei nemmeno giurare che mi sono addormentato, ma non può essere altrimenti. Forse è successo perché nello scompartimento l'aria era viziata, fuori più viginava e i finestrini erano ermeticamente chiusi. Pons soffocò una risatina. Credo che siate caduto in una piccola trappola molto ben architettata. Intendiamoci, non è una novità come trucco, ma a quanto pare funziona ancora. Davvero? disse St. John. E che trappola! Siete stato drogato e altrettanto sarà successo ai vostri colleghi, suppongo. Soltanto che loro, al contrario di voi, non vogliono confessare di essersi addormentati mentre erano in servizio. Impossibile! Io non ho mangiato e nemmeno bevuto niente che possa aver causato un effetto del genere, protestò Evans St. John. Sì, lo credo senz'altro, concordò Pons. Probabilmente la droga l'avete aspirata. Quel vecchio signore c'era anche questa mattina nel vostro scompartimento? Ah, ve lo leggo negli occhi che c'era, ma quando arrivando alla stazione vi siete svegliato non c'era più. Sì, avete perfettamente ragione, signor Pons. Era sparito, rispose il nostro visitatore guardando il mio amico con aria contrita. Pons annui distrattamente con la testa. Se io adesso vi chiedessi di descrivermi il vostro compagno di viaggio, probabilmente mi direste che non l'avete visto ben in faccia. Magari che aveva la barba, che portava occhiali scuri, un cappottone, un halster mettiamo, e anche senza dubbio una sciarpa intorno al collo tirata su fino al mento. St. John arrossì, boccheggiò due o tre volte come se volesse dire qualcosa, ma non articolò parola. Sono nel giusto, signor St. John? L'altro accennò di sì. Come se lo aveste visto. Portava un halster, sì, e la sciarpa e gli occhiali neri. Aveva i baffi però, non la barba. Continuò amareggiato. Mi sono fatto mettere nel sacco proprio per benino. Certamente avrete notato la sua statura, almeno, disse Pons in tono più gentile. Quella non poteva certo nasconderla. Un metro e ottanta, se non di più, signor Pons. Benissimo, è già qualcosa. Ora ditemi, la sua voce, era una voce da vecchio? Così mi è sembrato, ma senza dubbio era artefatta. Pons annui sovrapensiero. A proposito, domandò improvvisamente, è da molto che siete funzionario del governo? No, signor Pons, non da molto. Il mio amico meditò per alcuni minuti in silenzio. Sapete quali conseguenze potrebbero scaturire dalla pubblicazione di quei rapporti che per ora dovrebbero restare segreti? Certo, signor Pons, la pubblicazione di quei rapporti, oltre a interrompere le trattative in corso, provocherebbe indubbiamente una tensione nelle nostre relazioni con determinati paesi. Niente di grave, ben inteso, ma anche così la prospettiva non è piacevole, dopo tante fatiche. Quali nazioni sarebbero disposte a pagare un buon prezzo per ottenere sotto mano una copia di quei resoconti? Il prezzo più alto lo pagherebbe forse la Germania, rispose St. John dopo un attimo di esitazione. Però anche la Spagna, la Turchia e l'Austria sarebbero interessate. Sta bene, allora penso di non peccare di leggerezza ritenendo che i documenti siano stati rubati per essere venduti a un altro paese e non per essere consegnati ai giornali. Sì, proprio così, dichiarò il nostro visitatore. Il fatto che il vostro bizzarro compagno di viaggio abbia rubato i rapporti proprio il giorno in cui si è verificata la crisi della conferenza non vi ha colpito in modo particolare. Sì, confesso di sì, signor Pons. Eh sì, non può trattarsi di una semplice coincidenza. Con un gesto brusco, St. John si sporsi in avanti e domandò ansiosamente. Che cosa intendete dire, signor Pons? Per sgradevole che sia, bisogna ammettere l'evidenza. Qualcuno ha parlato. Il giovanotto si alzò in piedi e cominciò ad andare avanti e indietro nervosamente. Non sospetterete di uno di noi? Finché non avremo recuperato i documenti, io devo sospettare di chiunque era a conoscenza dei rapporti destinati a Lord Stapleton. Chi, oltre a voi sette, era al corrente del dispositivo di consegna. Soltanto Lord Stapleton e il primo ministro, rispose St. John oscurandosi in volto. E gli altri vostri colleghi? I loro nomi, prego. Harold Edson, James Greer e Ewert Stephens, che occupavano lo scompartimento dopo il mio. In quello presso c'erano Algernon Chambers, Michael Kermon e Emmett McDonagh. Sono tutti funzionari governativi da un minimo di quattro anni. Pons annotò con cura i nomi su un blocchetto che aveva portata di mano, riflettendo in silenzio per alcuni minuti. Poi si rivolse di nuovo a St. John. Avete detto che vi pare di esservi addormentato non appena lasciata la stazione di Windsor? O, per meglio dire, vi ricordate che il treno è partito da Windsor? Ditemi, signor St. John, rammentate se il vostro sconosciuto compagno di viaggio si è uscito dallo scompartimento poco dopo Windsor. Il giovanotto annui con un energico cenno della testa. Sì, è uscito. Me lo ricordo perché prima non era mai capitato. Non appena il treno è uscito dalla stazione. Non avete udito un rumore simile a uno schiocco soffocato? Diciamo come quando si stappa a una bottiglia di spumante. St. John rimase in silenzio per alcuni istanti. Poi, pensoso, disse Sì, credo di sì. Un rumore del genere l'ho udito proprio mentre il mio compagno di viaggio apriva la porta per uscire nel corridoio. Ah, era un vetro dunque, disse Ponzo sottovoce. Poi, rivolgendosi al giovanotto, il vagone sul quale avete viaggiato è reperibile? Oh, sì. In previsione che voi voleste esaminarlo, ho fatto dar ordine di trasferirlo in un binario morto. Se non vi spiace fare un breve tratto di strada a piedi, il vagone è a vostra disposizione qui vicino, nella stazione di Paddington. Più tardi, rispose Ponzo. Per il momento voi tornate pure alla conferenza. Farò del mio meglio e, se tutto andrà bene, forse sarò in grado di presentarvi dei risultati entro 24 ore. Non osavo sperare tanto, signor Ponzo. Se avrò ancora bisogno di voi, penso che potrò raggiungervi per mezzo di Downing Street. Dopo averci salutati, St. John uscì. Avvicinatosi rapidamente alla finestra che guardava in Pride Street, Ponce tenne d'occhio il giovanotto finché questi non salì sulla propria automobile. Subito dopo si voltò e, guardando l'orologio, disse Abbiamo giusto il tempo di fare una scappata alla stazione di Paddington prima di pranzo. Venite anche voi, spero. Si capisce, risposi. Ma non avete nemmeno finito la prima colazione. Adesso non ho tempo, Parker, e suonò il campanello per avvisare la signora Johnson che poteva venire a sparecchiare. Alla stazione Ponce parlò con un dirigente che ci fece immediatamente accompagnare al binario morto, situato a livello più basso della strada, sul quale era stato rimorchiato un vagone di prima classe, tale e quale come tutti gli altri delle ferrovie. Dopo averci indicato gli scompartimenti nei quali avevano preso posto i corrieri governativi, il funzionario ci lasciò soli. Ponce entrò subito in azione, dedicandosi all'esame dell'interno del vagone. Entrati che fummo nel primo scompartimento, egli dapprima si guardò intorno per qualche istante, poi, di colpo, si lasciò cadere in ginocchio per scrutare minuziosamente il pavimento. Io mi divertivo un mondo osservandolo trascinarsi i carponi. Finalmente esclamò. Ecco, ho trovato Parker. Sapete che cos'è questa roba? Seguì la direzione del suo sguardo e scorsi vicino alla porta dei minuscoli frammenti di vetro. Vetro, risposi inginocchiandomi a mia volta accanto a lui. Era questo allora quanto stavate cercando? Ovviamente i sette corrieri che hanno occupato questi scompartimenti sono stati intossicati da un gas destramente propinato. St. John ha sentito uno schiocco e questo sta a dire che il gas era compresso in fiale di vetro. Piccoli cilindri, vedete? Proseguì chinandosi e raccogliendo un frammento per esaminarlo più da vicino. Notate come è spesso il contenitore. Probabilmente per resistere alla pressione di un gas concentrato, direi. Senza dubbio troveremo un cilindro frantumato in ciascuno dei due scompartimenti occupati dagli altri corrieri. Diedi un'occhiata al pezzettino di vetro che Pons mi passò. Che tipo di gas sarà stato mai usato? St. John non aveva affatto l'aria di averne risentito le conseguenze e nemmeno ha detto di averne avvertito l'odore. Sì, inodore. Ovviamente era inodore. Avevo pensato al monossido di carbonio, però se non sbaglio è un gas che dovrebbe provocare nausea e malessere in chi lo aspira. Si è aspirato in quantità sufficienti a far perdere i sensi? Sì, senz'altro. Naturalmente vi sono delle eccezioni, risposi. A mio avviso è più probabile che si tratti di etilene. Non ha odore, non ha colore, evapora subito. I suoi effetti sono pressa poco quelli descritti da St. John. Sì, una piccola quantità di etilene concentrato era quello che ci voleva per raggiungere il risultato cui tendeva allo strano compagno di viaggio del nostro amico. Tenete presente che porta e finestrini erano chiusi. Lo sconosciuto non aveva che da schiacciare la fiala e uscire dallo scompartimento. Entro pochi secondi St. John sarebbe stato profondamente addormentato. Sì, ma gli altri scompartimenti? Finché non avremo parlato con i colleghi di St. John dobbiamo limitarci alle congetture. Ritengo che il nostro indiziato che ha già dato prova di essere molto astuto non abbia avuto grandi difficoltà a immettere il gas negli altri scompartimenti. Entrare fingendo di aver distrattamente sbagliato porta, scusarsi educatamente, lasciar cadere la fiala e uscendo schiacciarla mettendovi sopra un piede. Semplicissimo non vi pare? Già, un'ipotesi molto plausibile. Ponce si alzò. Comunque mi sembra piuttosto strano che nessuno di quei signori stesse fumando. Direi che il compagno di viaggio di St. John ha corso un bel rischio. Stupito domandai. Come potete saperlo se non siete nemmeno entrato negli altri scompartimenti? L'etilene è un gas composto da carbonio e idrogeno, una miscela sempre infiammabile che diventa esplosiva quando viene concentrata. Se mentre lo sconosciuto schiacciava il suo cilindro di etilene uno dei sette funzionari governativi avesse fumato, mi figuro che razza di terremoto sarebbe successo. seguito a ruota da me Pons passò nello scompartimento accanto. Sia in questo sia in quello seguente subito al di là della porta trovammo i frammenti delle fiali. Le deduzioni del mio amico stavano acquisendo consistenza. Visto che non trovava altro Pons si decise finalmente a porre fine alla sua ispezione portando con sé alcuni frammenti di vetro rinvenuti sul pavimento. Lasciato il vagone e avvisati i funzionari delle ferrovie che potevano rimetterlo in servizio ce ne tornammo a casa. Appena rientrato il mio amico telefonò ai sei corrieri governativi che avevano fatto il viaggio in compagnia di St. John. Sotto il fuoco di fila delle domande di Pons ciascuno di loro non tardò ad ammettere di essersi addormentato in treno. Anche l'ipotesi circa il modo in cui il gas era stato introdotto negli altri scompartimenti risultò rispondere a verità. Il singolare compagno di St. John facendo finta di avere sbagliato scompartimento si era affacciato aveva chiesto scusa e se n'era andato. I signori avevano udito uno schiocco? Sì pareva di sì no non avevano fiutato nessun odore particolare sì porte e finestre erano chiusi e no nessuno stava fumando. Esaurite le lunghe telefonate Ponce si sedette nella poltrona e rimase alcuni minuti assorto in profonde riflessioni. Finalmente si alzò in piedi e guardò l'orologio sopra la mensola del caminetto. Ora di colazione dissi io. Egli scosse la testa non per me posso farne a meno ma non avete preso quasi niente questa mattina osservai. non importa replicò Ponce devo assolutamente andare ad Hyde Park voglio parlare subito con un tizio che conosco per favore voi mangiate Parker non aspettatemi io mangerò un boccone alla svelta in un ristorante qualsiasi se ne avrò tempo me lo auguro non mi piace che andiate girando a stomaco vuoto è un sistema sbagliato d'accordo ma mi è balenato il sospetto che questa storia non sia così semplice come sembrava a prima vista infilatosi il cappottone a mantellina si fermò sulla porta stiracchiando sovra pensiero i guanti credo che dovrò sudare sette camice per acciuffare l'uomo o gli uomini che tirano i fili di questa faccenda via Ponce di un topolino ne state facendo una montagna adesso speriamo che sia così e chiuse la porta alle sue spalle Ponce tornò a pomeriggio inoltrato l'espressione del suo volto non faceva presagire niente di buono quando egli entrò a passi strascicati qualcosa è andato storto mi informai al contrario rispose Ponce bruscamente tutto è andato troppo bene liberatosi dal cappotto sedete di fronte a me come sapete cominciò sono uscito per andare ad Hyde Park so che in determinati viali del parco è facile incontrare certi individui i confidenti come li chiamano i giornalisti ne conosco alcuni di questi confidenti che a volte mi sono stati molto utili parecchie appartengono a un buon ceto sociale e nel loro ambiente fanno un lavoro altrettanto buono quanto quello che Frick svolge per me fra la marmaglia di Limehouse e Wapping uno di questi tali conosce benissimo Evans and John e mi ha raccontato che il nostro giovanotto da un po' di tempo in qua è diventato amico di un certo signore molto in evidenza nei circoli mondani e chi sarebbe questo signore l'uomo che vorrei prendere a laccio senz'altro se non mi inganno è lui che sta dietro le quinte in questa faccenda le cronache mondane citano spesso e volentieri il suo nome barone Ennes Fred Kroll impossibile esclamai Pons si strinse nelle spalle calma Parker certo ricorderete che al ballo dell'ambasciata tedesca nel dicembre scorso io mi sono molto interessato al barone Kroll me lo ricordo perfettamente a parte il mio interessamento strettamente personale ho agito su richiesta del controspionaggio di sua maestà nell'Europa continentale il barone si è trovato coinvolto in diversi casi piuttosto dubbi intendiamoci niente di concreto è mai risultato a suo carico ma rimane il fatto che più di una volta persone a lui vicine sono state imprigionate per crimini gravi nella maggior parte dei casi il colpevole confesso e condannato strano a dirlo è stato rimesso in libertà una forza occulta è entrata in azione e chi conosce il barone Kroll non ha molti dubbi sul fatto che sia lui questa forza occulta questo pomeriggio mi sono permesso di insistere per farmi ricevere dal primo ministro le cui iniziali avreste potuto vedere sul retro del biglietto da visita di St. John se lo aveste esaminato meglio proprio su St. John ho chiesto informazioni è risultato che su di lui non si sa granché ha ottenuto l'impiego attuale niente meno che su segnalazione del conte di Dolchester proviene da un'eccellente famiglia ma sulle sue capacità il primo ministro sa soltanto quanto gli ha scritto il conte allora ho telefonato al conte era piuttosto imbarazzato St. John gli era stato segnalato come persona altamente qualificata per svolgere determinati compiti in seno al governo potevo chiedere chi era stata ad indicarglielo potevo sì a condizione che mi impegnassi a mantenere il segreto era stata Lady Juna Howard l'incantevole nipote del conte per farla breve ho saputo che St. John era stato raccomandato a Lady Howard dal barone Kroll avevate fatto centro in pieno questo è incontestabile ma ho avuto una fortuna sfacciata speriamo che duri come primo passo naturalmente ho esortato il primo ministro a fare in modo che St. John sia tenuto all'oscuro dagli affari più importanti dunque pensate che egli sia complice domandai è certamente responsabile della fuga di informazioni dubito però che sia un complice cosciente suppongo che inconsapevolmente sia un fantoccio nelle mani di Kroll illudendosi che il barone sia lo specchio dell'onestà probabilmente deve avergli riferito qualche segretuccio di stato allora secondo voi il misterioso compagno di viaggio di St. John era il barone no da escludersi voi sottovalutate il barone Parker ma era certamente uno dei suoi emissari anche se adesso i documenti sono forse nelle mani di Kroll al momento del furto egli si trovava indubbiamente a chilometri di distanza dal luogo dove è avvenuto non c'è maniera di controllare sì rispose Ponce per mezzo di un affascinante damigella la polizia controlla ogni movimento del barone perché non telefonate all'ispettore Jameson allora ritengo che la sua risposta non farà che confermare la mia congettura staccato il ricevitore e avuto la comunicazione con Scott Randiard chiese di parlare personalmente con l'ispettore la cui voce non si fece attendere dopo una breve conversazione Ponce riagganciò stringendo le labbra per ingoiare la collera come pensavo da una settimana il barone è ospite nella villa del conte di Dolchester si ritiene che tornerà in città oggi ma non si sa che ora avete intenzione di sorvegliarlo Jameson ha avuto la gentilezza di prestarmi Maker e Maker sta tenendo d'occhio la casa del barone dalle prime ore di questo pomeriggio perché siete tanto depresso allora il barone Kroll è più scaltro di quanto voi pensiate Parker ho una gran paura di non riuscire a prenderlo in trappola e i documenti relativi alla conferenza li recupererò spero e li restituirò a St. John entro il termine stabilito ormai è chiaro che il barone pur essendo l'autore del piano escogitato per trafugare i documenti piano tanto audace quanto ben riuscito il barone dicevo non ha la minima intenzione di operare personalmente di conseguenza è ovvio che le carte rubate da uno degli uomini di Kroll dovranno essere consegnate a un altro agente segreto tedesco il quale a sua volta si occuperà di mandarle a Berlino oserei dire che io conosco il nome di chi si incaricherà di questa parte dell'operazione e chi è? si fa chiamare Hilary Blunt abita nel quartiere di Soho al numero 17 di St. Hans Court presso il controspionaggio però è meglio conosciuto come Stefan Brown una delle spie tedesche che hanno dato più filo da torcere a Scott Landiard dal momento che sapete chi è non sarebbe bene farlo arrestare con un pretesto qualsiasi mandando così a carte 48 l'unica possibilità che abbiamo portata di mano per recuperare quelle carte no caro Parker sarebbe una mossa sbagliata ora come ora Brown deve avere mano libera l'attesa non sarà lunga a meno che io non prenda una topica l'agente di Kroll si adopererà per liberarsi di quei documenti il più presto possibile perché il ministro degli interni li sta cercando per mare e per terra Brown sa che gli ridevano portare indubbiamente Kroll si sarà già messo d'accordo con lui lo stesso agente che stamani gli ha rubati li porterà a Brown il piano d'azione è fin troppo chiaro mettiamo che l'agente venga pizzicato egli prende su di sé tutta la colpa nemmeno l'ombra di un sospetto sfiora il barone Kroll che immediatamente mette in moto gli ingranaggi dandosi d'attorno per togliere dai guai il prigioniero è triste a dirsi ma io sono impotente contro le manovre che Kroll è in grado di realizzare e nemmeno possiamo aspettare che il barone si metta in comunicazione con Brown dobbiamo recuperare i documenti prima che la spia possa esaminarli se non fosse per questo io potrei forse tirare in lungo la partita fino al momento in cui mi trovassi in condizione di catturare Kroll ma mettiamo che Brown si incontri con il complice del barone in qualche posto se esce di casa verrà pedinato e il barone chiunque lasci casa sua sarà ugualmente pedinato mi sono occupato personalmente di far mettere a disposizione di Maker gli uomini occorrenti Maker ha ricevuto l'ordine di seguire di persona chiunque risponda alla descrizione piuttosto vaga del resto dello sconosciuto compagno di viaggio di St. John eccezione fatta per Kroll qualsiasi qualsiasi persona dovesse entrare in casa del barone oggi andrebbe incontro a un sacco di noie credo che da questo lato non abbiamo nulla da temere ma sono anche convinto che l'amico si permunirà evitando di correre i rischi gli accordi sono stati già presi basta che gli altri seguano i binari lo scagnotto di Kroll ha i documenti e li consegnerà a Brown questo è in dubbio sorvegliando la casa del barone in Park Lane buttiamo via il nostro tempo è la casa di St. Hans Court quella della spia tedesca che dobbiamo tenere d'occhio come quasi tutti coloro che si dedicano ad un certo tipo di attività segreta Brown vive da solo durante il giorno c'è una domestica in casa e qualche volta un cameriere di notte Brown è completamente solo è vero che esiste sempre la lontana possibilità che il conte abbia dato ordine di portare i documenti a qualche altro agente segreto tedesco ma anche così tutte le spie germaniche note alla polizia sono sotto sorveglianza ma ora basta Parker pensiamo a cenare dopo raggiungeremo gli agenti che sorvegliano la casa di St. Hans Court St. Hans Court numero 17 era una casetta a un solo piano un poco arretrata rispetto alla strada una costruzione vecchiotta simile a molte altre tanto si notava anche se cominciava a far buio uno degli uomini di Jameson era di guardia in fondo alla piazzetta un altro poco lontano all'angolo con Wardour Street Ponce e io ci nascondemmo sotto l'arco di un portone protetti dall'oscurità vedevamo però benissimo dall'altra parte della piazza l'unica finestra illuminata della casa e attraverso la tenda socchiusa una figura d'uomo che andava su e giù pochi minuti dopo che ci eravamo appostati un uomo comparve sulla soglia stagliandosi contro la fiocca luce proveniente dall'ingresso era un uomo basso piuttosto corpulento indubbiamente era Braun la spia tedesca dopo essere rimasto immobile per alcuni istanti si voltò per rientrare in casa ma proprio in quel momento un tassi svoltò sbandando l'angolo di Wardour Street e con uno stridio di freni si fermò davanti al numero 17 Braun si mobilizzò sulla soglia come se esitasse a chiudere la porta un uomo alto infagottato in un lungo pastrano scese dalla vettura disse alcune parole al conducente poi entrò rapidamente nella casa passando davanti a Braun la porta venne chiusa e il tassi proseguì per andare a fermarsi più lontano in fondo all'arco seguì Pons che immediatamente si portò dall'altra parte della piazzetta fermandosi davanti all'ingresso della casa Maker che aveva lasciato la sua macchina in una strada laterale ci raggiunse e si mise a bisbigliare con Pons questi si accovacciò per guardare attraverso il buco della serratura chiuso a chiave domandò Maker Pons scosse la testa afferrata la maniglia la girò con infinita cautela lentamente aprì la porta il suono smorzato di due voci filtrava da una stanza interna da sotto l'uscio si proiettava sul pavimento una striscia netta di luce nemmeno questa porta era chiusa a chiave Pons la spalancò di colpo tutti e tre balzammo nella stanza Maker ed io rivoltella alla mano mani in alto gridò Maker l'atteggiamento dei due uomini offriva un quadro contrastante mentre Brown aveva il volto contratto dallo sgomento e dalla paura lo spilungone che aveva portato i documenti era rimasto impassibile o meglio aveva l'aria di guardarci con disprezzo Pons si avvicinò immediatamente al tavolo ah ecco qui le carte che cerchiamo se non erro raccolse tre plichi li esaminò rapidamente poi li infilò nella tasca interna della giacca con indifferenza indicando Brown ingiunse a Maker arrestatelo spionaggio quindi si voltò verso l'altro individuo come vi chiamate John Hirsch rispose sgarbatamente la spia alle dipendenze del barone Kroll immagino diciamo piuttosto che sono un lavoratore autonomo signor Solar Pons preferite negare che avete rapporti con la spia Enesfred Kroll mai sentito nominare Pons si strinse nelle spalle Hirsch voi siete colpevole di spionaggio a favore di una potenza straniera ma vi offro l'opportunità di assicurarvi una specie di immunità quale ruolo ha avuto il barone Kroll nel piano che avete così brillantemente portato a termine una dichiarazione che coinvolga quella canaglia che sta alle vostre spalle e forse chissà potremmo chiudere un occhio sulla vostra partecipazione a questo complotto forza svelto rispondete ecco la mia risposta caro signor Pons andate all'inferno d'accordo faremo in modo che il barone Kroll non possa far nulla per togliervi dai pasticci arrestatelo maker una volta di nuovo in strada Pons si incamminò in silenzio assorto in profonde riflessioni se non altro sbottai alla fine avete recuperato i documenti già ma per voi tutto finisce qui Parker ma scusate Pons tutto il resto lo avete già spiegato davvero non vi sia affacciata alla mente l'ipotesi che il fatto che io recuperassi i documenti facesse parte del piano di Kroll francamente no non riuscirei ad afferrarne il motivo e che facesse parte del piano anche il fatto di farci acciuffare Brown e di levarlo di torno i tedeschi usano questo sistema per eliminare le spie non più gradite perché troppo note alla polizia elementare molto elementare temo abbiamo fatto esattamente quanto si voleva che noi facessimo Brown e Hirsch se ne accorgeranno nessuno alzerà un dito per aiutarli e nel frattempo il barone Kroll escogiterà e realizzerà altri colpi più conformi alla crescente sete di vendetta della Germania ma se questa volta ci è andata male si presenterà un'altra occasione per fare i conti con il barone Kroll e poi un'altra ancora senza fallo e così via finché non toccherà a noi avere la meglio pazienza ci vuole verrà il nostro momento Gli audio racconti Serie Solar Pons I Sette Coriene di August Derlitt Letto da Dan di Gli audio 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 di Gli audio